Ha imbottito di esplosivo un veicolo militare e poi si è fatto esplodere davanti a una base dei servizi segreti afghani, uccidendo nel meno sette membri. Una quarantena i feriti. Nessun civile sarebbe stato coinvolto. Questo è il bilancio di un attacco kamikaze avvenuto all'Alba Ghazni in Afghanistan, nell'est del paese. Poco dopo è arrivata la rivendicazione dei talebani. La provincia è stata in passato scenario di importanti attacchi contro truppe afghane e straniere. Proprio questa domenica il presidente Ghani e il suo sfidante alle ultime elezioni, Abdullah Abdullah, hanno firmato un accordo dopo mesi di crisi politica in cui entrambi reclamavano la presidenza. Abdullah riconosce a Ghani la guida del paese e in cambio tiene un fedelissimo alla vicepresidenza e la gestione degli accordi con i talebani. In Afghanistan la tensione continua ad essere alta nonostante un accordo firmato a inizio anno con Washington, un accordo che prevede, tra l'altro, il ritiro delle truppe statunitensi e uno scambio di prigionieri. Grazie.